Buonasera a tutti, bentrovati, tanti gli interventi per il maltempo, tra l'altro un forte acquazzone si è scatenato anche nel pomeriggio di oggi, al momento non risultano particolari interventi dei vigili del fuoco che comunque continuano ad essere allerta perché questi sfoghi del maltempo spesso costano parecchio in termini di alberi abbattuti o comunque danneggiati. È proprio quello che è successo nella tarda serata di ieri con una decina di operazioni di ripristino che hanno visto impegnate soprattutto i vigili del fuoco di Luino. Perché? Perché questa ondata con forte vento, pioggia e grandine, ha colpito in particolare l'Alto Varesotto, Luino, Montegrino-Valtarvaglia e la Vena-Ponte-Tresa. Non si registrano feriti, solo qualche disagio. Poi a proposito dei vigili del fuoco, davvero una serata impegnativa perché a Luino in via Turatti sono andate a fuoco due auto e sapete che nella cittadina Lacustre non è la prima volta che capita, erano le tre di notte, le due vetture sono andate, come vedete, completamente distrutte sul posto, comunque è stato immediato l'intervento dei pompieri. Intervenuti poi per un altro tipo di incendio, questa mattina alle 8 a Taino, in questo caso interessata le fiamme c'era una abitazione di via Como, in particolare il piano Mansarda che è stato danneggiato, anche in questo caso sul posto, i vigili del fuoco. Poi vi raccontiamo del vertice in prefettura con il prefetto Pasquariello che ha accolto i sette sindaci eletti nelle elezioni di metà maggio, sul tavolo in particolare il tema della sicurezza e della lotta contro gli spacciatori. Spaccio nei boschi e nodo della sicurezza, questi i temi più dibattuti nel corso del vertice a Varese tra il prefetto Salvatore Pasquariello e i sette sindaci eletti a metà maggio. Elena Carraro, Lonate Pozzolo, Fabiano Lorenzin, Venegono Superiore, Raffaele Simone, Azzate, Emilio Aliverti, Ierago Conorago, Marcella Androni, Angera, Giuseppe Iocca, Bardello Malgesso Bargano e Luca Baglioni, Agara. I presenti hanno concordato, contatti costanti, incontri periodici, insistendo sull'esigenza di coordinare al meglio le forze di polizia locale, a supporto di carminieri, polizia e guardie di finanza. E torniamo a qualcuna delle voci riecheggiate nell'Assemblea Generale di Confindustria andata in scena ieri a Varese che già vi abbiamo raccontato nel dettaglio. Proprio in quella sede abbiamo incontrato Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, convinta che per Malpensa si debba e si possa fare di più. L'Assemblea dell'Unione Industriali si torna a far sentire forte la voce in difesa di Malpensa. La Lega è al governo in questo momento, come si sta muovendo? La Lega è assolutamente in difesa di questa infrastruttura, tenendo in considerazione che però il territorio è sacro. La Lega è un partito di territorio, abbiamo moltissimi sindaci sul territorio che giustamente rivendicano le esigenze dei loro cittadini ad avere diritto ad una qualità di vita ottimale. Per questo motivo lo sviluppo deve essere assolutamente coerente e compatibile con le esigenze di tutti, però non stiamo parlando di un intervento ad alto impatto ambientale. L'impatto è veramente minimale e deve essere assolutamente compensato, però non si può pensare di pregiudicare lo sviluppo di un'infrastruttura che è essenziale per l'intero sistema paese e per il nostro manifatturiero. Adesso un paio di notizie che riguardano la viabilità, soprattutto per darvi qualche indicazione, ma anche per raccogliere delle opinioni in merito. Cominciamo da Varese perché è in apertura il cantiere nell'ultimo tratto di Via Leborri, quello che sfocia su Largo Flaiano. Sapete che questa parte della città è oggetto di un ampio ridisegno, di un ampio ripensamento. Torna ad essere a senso unico quel tratto tra l'incrocio con Via Gasparotto e Largo Flaiano. La circolazione è consentita solo a chi esce da Varese, cioè chi proviene da Largo Flaiano, ma è vietata per chi cerca di raggiungere Largo Flaiano, che invece viene obbligato a svoltare in Via Gasparotto. Quindi il consiglio è, se dovete raggiungere la città capoluogo, evitate quel tratto perché rischiate di rimanere bloccati o comunque rischiate di finire nel traffico che in quella zona è spesso molto congestionato. Altro problema di traffico congestionato si registra quotidianamente sulla SP57 tra Gazzada e Lozza. Anche in questo caso la causa sono i lavori in corso. Ieri Giuseppe Licata, consigliere regionale di Italia Viva, aveva proposto in proposito di rendere temporaneamente gratuito il tratto di Pedemontana che scorre in parallelo sostanzialmente alla SP57. Però il consiglio regionale non ha preso in considerazione questa proposta, perciò Licata si dice deluso e arrabbiato. E adesso parliamo di sanità perché il PD e l'opposizione a Gallarate continuano a picchiare duro e a scendere in piazza in difesa dell'ospedale. Allora siamo andati a chiedere al Sindaco Cassani cosa pensi di queste prese di posizione e in che misura ci si debba davvero preoccupare per il destino del Sant'Antonio Abate. Ecco la risposta. I numeri dicono che molte più persone di prima si rivolgono al pronto soccorso di Varese perché nella SST Valle Olone evidentemente non confidano più come prima. Faccio una sintesi. Sicuramente c'è un grosso problema di medici che riguarda un po' tutto il paese, la Lombardia ma soprattutto la nostra SST e quindi a fronte di questa carenza di medici bisogna capire che scelte fare. Probabilmente mantenere le due strutture di busto e Gallarate operative con gli stessi reparti in questo momento ha poco senso ma non lo dico io, lo dicono i medici, lo dicono i cardiologi. La cardiologia è l'ultimo reparto che ha visto la preoccupazione di una cittadinanza a fronte di una paventata chiusura di Gallarate. C'è una cooperativa ma non può essere la soluzione. Come sappiamo c'è stata una errata programmazione a livello nazionale per tornare a livelli di medici necessari per la nostra collettività servono almeno 8-10 anni. Quindi bisogna tenere duro e nel frattempo portare avanti il progetto del nuovo ospedale dove ci possono essere sicuramente cure migliori per il territorio. La domanda è anche legata al fatto che quando si parla di salute bisognerebbe essere un po' più uniti. Litigare su un tema così mette preoccupazione magari anche a persone fragili che dovrebbero essere rassicurati. Assolutamente. Il problema è che c'è qualcuno che prova a fare demagogia, prova a fare il capopopolo, a raccogliere le firme speculando su un tema come quello della salute che come dicevi giustamente dovrebbe essere al di sopra della politica spiccia, della politica locale. Ma a proposito di Gallarate, una imprenditrice gallaratese è ai vertici di Confindustria proprio da ieri. Si tratta di Eleonora Merlo, vicepresidente. Eleonora Merlo, vicepresidente di Confindustria Varese, insieme a Barbara Cimmino e Luca Donelli, vuole portare energia giovane ai vertici dell'associazione. Di innovazione, ecco, che fa un po' il nostro quid in più che noi giovani possiamo dare all'interno di un'associazione come la nostra. Ma come affrontare l'apparente contraddizione tra una comunicazione sempre più liquida e un associazionismo che si nutre di incontro, presenza e fisicità. Merlo non ha dubbi, Confindustria è sui social e i follower non mancano, ma chi fa associazione sta con i piedi piantati nella realtà. Ciò che conta non è il veicolo, bensì i temi, i servizi, i contenuti e le strategie. Il progetto anche Varese 2050 va in questa direzione, portare un po' di innovazione a quello che è un'associazione che ormai sta diventando quello di tutti i giorni, dei giorni nostri, insomma. E adesso a Tardate dove si è aperta nel cuore del Parco Pineta e nel suo centro didattico una tre giorni di convegni che attira educatori e docenti in arrivo da tutto il mondo. Venerdì sera uno spettacolo aperto al pubblico. Tardate è capitale della divulgazione culturale, artistica e scientifica. Nel cuore del Parco Pineta sei educatori di tutto il mondo grazie al collettivo americano Teach. Oggi abbiamo l'onore di avere ospiti dei docenti che arrivano un po' da tutto il mondo e sono qui oggi a fare, a realizzare questa sorta di seminario di tre giorni, una tre giorni di approfondimento rispetto a tematiche sicuramente legate alla natura, al parco, ma anche legate a modelli sperimentali nuovi di educazione con questo ponte tra l'educazione, l'arte e anche un po' la scienza. La sera di venerdì 7 porta aperte al pubblico per il Tanabata Festival. Nuova serata del Panatron e nuova occasione di incontro con l'ex campione di ciclismo, Saroni. Il 18 maggio 1985, 100 metri da qui, davanti alla fabbrica dell'ex Coca-Cola, partiva una con squadra che sarebbe poi arrivata all'elodomo Vigorelli di Milano. Nel quarantennale della vittoria del suo secondo giro d'Italia, in occasione dell'ultima proiezione di cinema e sport a Villa Calcaterra Bussarsizio, lì è ridato 1982 Beppe Saroni è stato omaggiato dal presidente del Panatron, la Malpensa Giovanni Castiglioni, di una maglia rosa che stavolta si è guadagnato ripercorrendo i ricordi dei momenti salienti della sua carriera. E vince Lombardia con la maglia di campione, con la Sanremo, per l'Istapo e il Giro d'Italia con la maglia di campione, credo che sia la gara. Un volto noto di Varese, Paola della Chiesa, torna a occuparsi di sport e turismo. A qualche anno dal suo mandato all'Agenzia Provinciale, eccola nelle vesti di esponente del CONI Lombardia. Vediamo perché. Un volto noto di Varese, anche se un po' più defilato rispetto a qualche anno fa, impegnata in tutt'altro rispetto alla pubblica amministrazione. Ma oggi Paola della Chiesa porta in dote una importante notizia sul suo ruolo ai vertici del CONI. Sì, stiamo parlando di CONI Lombardia e stiamo parlando della Commissione Marketing, Eventi e Partnership con le aziende allo scopo di promuovere lo sport, ma collegato al turismo. Quindi stiamo parlando di turismo sportivo e stiamo parlando in particolare di un incarico che vedrà un coinvolgimento nelle attività relative al canottaggio, ma soprattutto con uno sguardo alle nuove generazioni, quindi ai giovani. Della Chiesa, che da direttore dell'allora Agenzia del Turismo aveva tenuto a battesimo i primi grandi eventi di canottaggio, si congratula con enti e istituzioni che in questi anni hanno definitivamente affermato la centralità remiera del Lago di Varese. E da esponente del CONI promette di concentrarsi sul volto fresco del rilancio turistico a partire dal Festival dei Giovani, che pochi giorni fa ha portato alla Schiranna 2.500 atleti. Perciò la missione è questa. Organizzare una promozione del territorio molto più capillare, cioè per queste famiglie che saranno qui sul territorio, certo guarderanno le gare, ma anche la possibilità di visitare i bei luoghi della nostra provincia che come giustamente si ricordava conosco e quindi posso aiutare a fare questo discorso di rete assieme a tutte le altre realtà che già operano in questo campo, nel nostro territorio. Senza dimenticare la componente formativa. Mettere insieme, oltre all'aspetto di marketing territoriale, anche tutto ciò che riguarda alternanza scuola-lavoro, progetti per i nostri giovani che poi diventeranno i marketing manager del futuro relativamente a sport e turismo. Ore importanti per la pallacanestro Varese sul fronte europeo. Ascoltiamo le ultime. È una pallacanestro Varese impegnata su più fronti, quella dei primi giorni di luglio. I biancorossi, infatti, nella tarda serata di martedì 4 luglio hanno dato il benvenuto ufficiale a Davide Moretti, playmaker guardia che arriva ai piedi del Sacromonte dopo due ottime stagioni a Pesaro, chiuse con 10.2 punti e tre assist di media partita. Un colpo azzurro importante in un mercato, quello degli italiani, che ha sempre poco da offrire, ma dal quale la coppia scola-iemoli ha saputo pescare, con un vero e proprio blitz, un jolly di assoluto talento in vista della prossima stagione. Intanto, sul fronte europeo, Varese affronterà i serbi dell'FMP Socerbet nel primo turno di qualificazione della Basketball Champions League, nel turno preliminare in programma del 25 settembre al 1 ottobre ad Antalya, in Turchia. In caso di vittoria i biancorossi se la vedranno con una tra Schole e Anversa, ed in un eventuale finale una squadra tra Brindisi, Gottinga, Iros Den Bosch e Oradea. Nel caso di qualificazione alla regular season della competizione, i biancorossi saranno inseriti nel girone C, con Darussafacà, Vefriga e Lenovo Tenerife. E purtroppo la doccia gelata ha davvero travolto i biancorossi del calcio. La notizia, come sapete, è arrivata ieri, nel tardo pomeriggio, con appunto la tegola del CONI, che in fase di appello ha deciso di premiare la folgore caratese e di punire il Città di Varese, che così si ritrova in eccellenza. Il servizio. Doccia fredda, anzi ghiacciata in casa Città di Varese. Il Collegio di Garanze del CONI, infatti, al termine di una riunione fiume, ha accolto il ricorso della folgore caratese, di fatto ribaltando il giudizio della Corte federale, riportando in Serie D la formazione Brianzole, spedendo in eccellenza i biancorossi. Una sentenza accolta con stupore, usando le stesse parole della società del presidente Paolo Girardi e del patron Antonio Rosati. Si attendono le motivazioni che hanno portato a una sentenza che, di fatto, ristabilisce il risultato conquistato sul campo dalla scuola di Giuliano Melosi. Per il Città di Varese, invece, un futuro pieno di incognite. La sentenza ha colto di sorpresa la società che si stava preparando a lavorare per un mercato importante in Serie D. Al momento, invece, bisognerà allestire una squadra chiamata a vincere un campionato di eccellenza dove ci sono altre realtà importanti. Su tutte, Solbiatese, Saronno, Pavia e Oltrepò. Il Città di Varese si interroga sui prossimi passi da compiere. C'è anche la possibilità di un ricorso al Tarra con tempistiche particolarmente lunghe e, nel frattempo, una squadra da costruire da zero. E adesso, invece, parliamo di pallavolo con qualche spunto di cronaca in più, perché da un lato ci concentriamo sul futuro della WIBA, le farfalle di Buster Sizio. Dall'altro, però, si inserisce anche una curiosità non da poco, soprattutto per i cinefili come me. Tra gli investitori, i protagonisti del nuovo corso della WIBA, spunta, infatti, un nome noto. O meglio, forse il nome non è tanto noto in questa parte del mondo. Chris Gardner. Però è molto nota la sua autobiografia, La ricerca della felicità, da cui Gabriele Muccino e Will Smith avevano tratto un film di enorme successo globale. I dettagli. La WIBA cambia tutto e sogna in grande. Giuseppe Pirola ha ceduto il 51% della società alla Brera Holdings PLC e alla sua controllata italiana Brera Milano SRL. Un fondo americano concentrato sull'espansione della propria attività nello sport a impatto sociale. Alle spalle c'è un portafoglio globale di club, a cui garantire maggiori opportunità di vittoria nelle proprie competizioni, riempito con sponsorizzazioni e servizi di consulenza. Una vera e propria ricerca della felicità per la squadra bustocca. Tra i sostenitori c'è anche Chris Gardner, l'uomo che con la sua autobiografia ha ispirato il celebre film interpretato da Will Smith con la regia di Gabriele Muccino e che ha già stretto la mano a questo nuovo inizio. Quanto la società resta quasi tutto invariato, rimane presidente Giuseppe Pirola, ancora in possesso di una quota di minoranza, mentre ci sarà l'ingresso come amministratore delegato di Gianluigi Viganò, imprenditore nell'ambito di editorie e marketing. Il progetto intorno a Giulio Velasco inizia a prendere forma, un sogno che punta a riportare le farfalle a giocarsi qualcosa di grande in Italia e in Europa. E chiudiamo con una manifestazione all'insegna dell'incontro dello sport, dei tornei e soprattutto dei più giovani. A Buster Sizio si gioca, a basket, a beach volley e a calcetto. Tutti i dettagli. Vi aspettiamo dal 10 al 16 luglio al Buster Sizio Sport nelle piazze della nostra città. Sarà l'occasione per giocare insieme, divertirci e il tutto per una buona causa. Così l'associazione Cuore Pieno presenta Buster Sizio Sport, manifestazione a favore dell'ospedale cittadino che prevede tornei di basket, beach volley e calcetto. Un evento che si inserisce nel calendario creato per l'anno come città europea dello sport. Il centro per vivere deve avere eventi che guardano ai giovani, fascia su cui come città abbiamo un po' dei buchi da colmare, dichiara l'assessore allo sport Maurizio Artusa, concludendo. Quindi noi facciamo la nostra parte all'interno di Buster State. A tutti una buona serata. Le previsioni per domani giovedì solo in parte soleggiato, con nuvolosità variabile e tendenza temporalesca. In serata miglioramento all'est, ma ancora temporali nella notte sulla Lombardia occidentale. Temperature massime in calo verso i 25-26 gradi. Poi da venerdì, bel tempo estivo, soleggiato, via via più caldo anche nel fine settimana, con le massime in rialzo tra 30 e 33 gradi. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata. Io mi fermo qui. Il TG torna domani. Vi auguro una buona serata. Arrivederci e buon prossimamente. Grazie a tutti.